Onoski parte da lontano, si appoggia Brozovic, arriva Santon, non ci attia al fondo per la pietra, Ross, invece sulla schiena di Ciganini, non ci arriva Brozovic, Marcin Morales, la tiene in campo ma non posso seguire alcun compagno, Juan Jesus, Zappa Costa che intercetta con il controllo, Inter che ha sentito, non so se è una decisione personale di Podoloski di mettersi a sinistra, quindi di uscire dall'area di rigore, presidiata solamente in quel momento da Palazzo, che ha debito cross da solo, isolato e per forza di cosa, o un centrocampista o Sanchieri stesso deve andare a accompagnare, Podoloski due volte, non riesce però a tenere il pallone, andiamo da Andrea Favetti per capire un po' meglio cosa è successo in zona 40, Andrea. No, è successo che chiaramente la partita dell'Atalanta aveva una munizione soltanto per Sanchieri, in modo in fuori a gira, ma anche per Menel per il fallo che ha fatto, poi c'è stato un battito, infatti, con il team manager dell'Inter, Romeo che è andato lì per chiedere chi avesse ammolito dalla partita dell'Atalanta, non hanno preso bene, quello che poi sta chiedendo come torna a Spardino Nere, calmo, fa capire ai giocatori che non sono queste le situazioni che possono portare un vantaggio sul campo alla squadra, rimanendo tranquilli, la partita dall'Atalanta, per sentieri, possono arrivare in fondo con un risultato positivo. Certo, Carlo, pensare a uno scatenato dopo l'altro che dice se devi stare tranquilli, sì, sì, incredibile, però anche vero, perché ha dimostrato, pur andando in svantaggio subito, di avere la mentalità giusta e anche le soluzioni giuste per far male all'Inter, e ne accudirsi se deve dare un vantaggio all'avversario. Vedel, tentativo di apertura, allora il perfetto sui piedi di Santon, cerca lo spazio per un cross, Santon vedendo di fronte, poi probabilmente l'ha detto Maduro Masiello, sbaglia il toccare tanto per l'infezione di Zappanotta, centralmente Ciganini, vuole l'apertura su López, la palla arriva al Papu per Mando da Campagnano senza pallo, Brotovic, Balazio, Podorski, Intercross due volte, poi chiede aiuto a Brotovic, a vedere chi le va, lo trova l'avversario in più con la goglia gialla, andiamo avanti, Juan Jesus, Maradocchia, 37 in corso, 1-1, primo tempo che lascerà tantissime scorie, non solo nervose ma anche fisiche perché capite tanto, anche a Guarini, Guarini, se l'ha portato a sinistro, cerca la gol lontana, è troppo, bellissimo, 1-2-20, è questa Guarini che quando decidete